a pesero emergenza maltempo in fase di superamento ricci e paolini fanno la conta dei danni domani scuole riaperte in un giovedì d'allerta gialla gabice mare riapre la guardia medica estiva volontariato al centro di pesero capitale della cultura buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di rossini news telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 17 maggio apriamo con una emergenza maltempo che si è mostrata in fase di superamento a pesero in questa seconda giornata di allerta arancione sul nord delle marche vediamo a tal proposito come si presentava la città questa mattina è in fase di superamento l'emergenza maltempo in provincia di pesero orbino dopo che le piogge di oggi hanno dato maggior tregua di quanto temuto dalle previsioni meteorologiche che ieri avevano prolungato l'allerta arancione a pesero è stata una giornata in cui è stato costantemente monitorato il livello di piena del fiume foglia andato ben oltre gli argini fra le zone di via furiassi via ponchielli e via del carso ma con disagi contenuti anche grazie alla gestione del deflusso di acque dalla diga di mercatale cominciato già da lunedì sera abbassato il suo livello anche il torrente genica dopo l'esondazione con allagamenti di strade attività e abitazioni nella giornata di ieri soprattutto in zona loreto che oggi è tornata gradatamente a ripulirsi non ci sono stati 90 millimetri di pioggia di martedì e allora la giornata è stata trascorsa rimboccarsi le maniche nel lavorare all'attenuazione dei danni innanzitutto a gestire la spaccatura della città creata dall'interruzione del sottopassaggio di via gradara che ha congestionato il traffico in zona tombaccia sottopasso interrotto anche via bondei al san decenzio con gli operatori del comune al lavoro per il ripristino san decenzio che anche questa mattina si presentava con parcheggio ricoperto dal fango al pari del cimitero centrale che sarà riaperto al pubblico nella giornata di domani nella stessa zona vigili del fuoco al lavoro nel parcheggio del tribunale completamente sott'acqua che ha sommerso una ventina di automobili negli stalli sotterranei allagamenti in varie zone compreso il campo sportivo di vismara diventato una vera palude non solo allagamenti però a causa dell'impraticabilità degli impianti di ricezione oggi in buona parte della città non si è potuta effettuare la raccolta dei rifiuti da parte di marche multiservizi e poi ci sono state frane e smottamenti che si sono accanite in gran parte dei territori collinari così come fra le criticità maggiori c'è stato un traffico autostradale fortemente viziato dagli allagamenti che hanno messo in ginocchio l'Emilia Romagna e lo stesso transito in A14 una situazione che ha chiuso a lungo anche il casello di Pesaro in direzione Bologna e in uscita per chi proveniva da sud e vediamo informazione che per domani l'allerta rimane ma è stata declassata da arancione a gialla con precipitazioni sparse nelle nord delle Marche motivo per cui domani verranno riaperte regolarmente le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia di Pesaro Urbino questi ed altri sono i temi emersi anche questo pomeriggio poche ore fa nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala operativa integrata della provincia di Pesaro Urbino in cui le sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della provincia Giuseppe Paolini hanno fatto il punto sul maltempo soprattutto alla luce della conta dei danni. Passata l'onda alta dell'emergenza maltempo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della provincia Giuseppe Paolini questo pomeriggio la sala operativa integrata della provincia hanno rinnovato la necessità della richiesta dello stato d'emergenza al cospetto di una pesante conta di danni dovuta alle forti piogge di questi giorni. Non ci sono danni a persone questo è un sospiro di sollievo che tiriamo le previsioni stanno migliorando però abbiamo una marea di danni, danni pubblici a strade, frane, smottamenti a edifici pubblici, a impianti sportivi e poi tanti danni anche ai privati perché dove è entrata l'acqua ha fatto danni garage, cantine, appartamenti al piano terra, negozi, fabbriche e quindi davvero la conta dei danni è tanta per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza e oggi mi sono sentito sia col presidente Aquaroli che con il presidente Bonaccini perché tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto perché questa volta la solia non ce la facciamo. La pioggia che è caduta è stata tanta, è caduta su tutta la provincia, ha creato dei danni enormi su tutta quella che è la viabilità della provincia e piano piano stiamo tornando alla normalità per il transito ma non naturalmente per le strutture e per i lavori che bisogna fare, qui servono parecchie centinaia e se non qualche milione di euro per rimettere a posto tutto. Quante sono le strade chiuse? Le strade chiuse sono 25 strade chiuse per frane e abbiamo praticamente anche dei cadute di alberi eccetera ma quelli sono stati ripristinati però per frane sono 25 e molte di queste sono state riaperte a senso unico alternato. Nei prossimi giorni si lavorerà per rendere il più possibile transitabili ma il problema rimane degli smottamenti e delle frane che purtroppo con queste piogge sempre di più saranno e sempre più sono i problemi che creeranno per la viabilità e anche per la sicurezza dei cittadini e di chi viaggia in auto. Fiumefoglia a retto, ieri è stato fatto un intervento da parte del comune molto importante su un'argine dove stiamo facendo i lavori di ciclo pedonali, di un ponte ciclo pedonale quindi è stato rinforzato un'argine al volo e quindi benissimo il lavoro che è stato fatto sul foglia. È un peccato che l'Enel ancora non abbia pulito l'invaso del furlo perché tutta quest'acqua l'avremmo potuta mantenere e quindi sarebbe stata acqua fondamentale per la siccità durante l'estate e acqua che non sarebbe arrivata sulla costa. Quindi è incredibile che ancora l'Enel dopo anni che viene sollecitato alla pulizia dell'invaso del furlo non l'abbia fatto. Speriamo che il grido d'allarme che arriva stavolta li faccia davvero muovere. Ufficiale la riapertura di tutte le scuole della provincia di Pesor Urbino, eccezione fatta per l'Ipsi e Benelli che rimarrà chiuso per un allagamento che ha colpito anche il piano interrato della scuola con l'acqua che è arrivata fino alla cabina elettrica. Chiusura per il giovedì con speranza di riapertura per venerdì 19 maggio. Domani riaprono le scuole perché il tempo è migliorato, le previsioni sono migliorate. La protezione civile ha passato l'area di Pesor Urbino da zona arancione a zona gialla e quindi domani le scuole sono di nuovo aperte. Abbiamo fatto bene a chiuderle in questi due giorni, soprattutto ieri, perché immaginate se ci fossero state le scuole aperte, che situazione, che caos avremmo avuto in città. Intanto per i danni ai privati è stata attivata anche una mail e un numero telefonico dedicato. Tutti i privati che hanno avuto danni possono scrivere a alluvione, tutto piccolo, 2023 chiocciolacomune.pesero.pu.it o telefonare allo 0721 387 789 perché oltre al resoconto dei danni pubblici dobbiamo fare un resoconto dei danni privati e poi sarà la provincia che gestirà tutta la procedura dello stato d'emergenza. Lasciamo il maltempo e passiamo alle altre notizie. Dalla Regione Marca è infatti arrivata risposta positiva all'interrogazione del consigliere Andrea Biancani e del gruppo PD che chiedevano l'attivazione a Gabiccemare di un'ambulanza e della Guardia Medica Estiva per il 2023. Necessità evidenziata anche dal sindaco Pascuzzi. La Regione ha comunicato che la ST ha già avviato le procedure necessarie ad attivare la postazione potes con ambulanza. Il servizio aprirà sicuramente a inizio luglio ma si sta lavorando per renderlo operativo già a metà giugno. Per quanto riguarda la Guardia Medica i medici sono in corso di individuazione e il servizio dovrebbe essere attivato nei mesi di luglio e agosto. Il volontariato come protagonista attivo di Pesaro Capitale della Cultura 2024. A questo scopo il percorso intrapreso dal CSV Marche che debutterà il 20 maggio coinvolgendo appunto le realtà di volontariato del territorio. Volontariato e cultura è questo il titolo di questo importante progetto in vista anche di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Un programma però veramente ricco il 20 di maggio. Sì sarà un appuntamento molto importante per tutte le realtà di volontariato della nostra provincia perché il cantiere Rossini diventerà un vero e proprio cantiere di idee e di approfondimento sul mondo del volontariato. Ci incontreremo alla mattina verso le 9.15. Da lì faremo l'apertura di questa mattinata di lavori. daremo l'occasione a tutte le realtà di volontariato di provare a riflettere su quello che è il valore del volontariato proprio nel nostro territorio, nella nostra provincia e nella regione Marche. I lavori saranno molto precisi, molto chiari. Apriremo con un bellissimo spettacolo del collettivo DIMAV che approfondirà il tema del volontariato e darà degli spunti alle realtà di volontariato. Da lì cominceremo i tavoli di lavoro dal quale uscirà uno spunto per i prossimi mesi dove lavorare su un manifesto che lasceremo alla nostra città verso la fine del 2023 che potrà essere poi utilizzato anche per Pesaro 2024. Al termine di questi lavori di questa giornata poi ci saranno anche i saluti istituzionali e da lì cominceremo i lavori veri e propri. Appena abbiamo saputo che Pesaro si era giudicata a questo importantissimo evento abbiamo aperto una riflessione all'interno del mondo del volontariato e il modo giusto ci sembra quello di convocare tutte le associazioni e chiedere loro cosa pensano di poter dare a questo percorso da fare insieme con il Comune con la fondazione che gestisce l'evento e quindi faremo questo importante evento il 20 di maggio ai Cantieri Rossini Sabato 20 di maggio torna a Pesaro il Festival della Comunicazione e in particolare a Palazzo Montani Antaldi una quarta indizione che sarà incentrata sul tema della intelligenza artificiale. Un mondo sempre più automatico che rischia di confondere la realtà Parlare di futuro oggi significa fare i conti con le innovazioni tecnologiche sempre più all'avanguardia e con l'intelligenza artificiale che è ormai in grado di scrivere articoli di giornale creare immagini senza diritti d'autore e farti saltare la fila nei supermercati con le casse automatiche. Tutto questo è però solo un assaggio di ciò che già esiste e che andrà sempre di più a influenzare le nostre vite. Ecco perché è importante farsi trovare pronti. Noi parleremo di intelligenza artificiale sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno abbiamo una collaborazione con i relatori all'Università di Urbino quindi ringraziamo in particolar modo il rettore Giorgio Calcagnini il prorettore Giovanni Bocciartieri che ci hanno indicato i relatori e che sono degli esperti di comunicazione e in questa edizione di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è l'argomento di questi giorni perché ci siamo accorti che l'intelligenza artificiale creerà un problema con i posti di lavoro. Un bel articolo di qualche giorno fa parla di almeno 300 milioni di posti in meno che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo è il tema dei temi e lo affrontiamo con l'Università di Urbino che quest'anno ci ha omaggiato di relatori di tantissimo livello. L'ingresso è libero, auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio a Pesaro sabato 20 maggio. È stato ufficialmente rinviato l'evento Tavuglia-Vale che prevedeva per questo venerdì 19 maggio la consegna delle chiavi della città di Tavuglia al campionissimo di motociclismo Valentino Rossi. In una nota la sindaca Francesca Paolucci ha sottolineato come sia stata una decisione sofferta ma insieme a Valentino, alla VR46, a Skaia, tutta la macchina organizzativa si è ritenuto opportuno rinviare l'evento di fronte alla tragedia che si sta consumando a pochi chilometri di distanza nella vicina Emilia-Romagna. Un segno di rispetto dovuto alle vittime del maltempo e ai loro cari. Facciamo invece un salto in avanti a domenica 28 maggio quando alle 15 allo stadio comunale Mancioli di Apecchio si giocherà la partita delle cuore fra le vecchie glorie della viridissima Apecchio e la Nicola Nazionale Italiana Calcio Olimpionici. Una partita che vedrà donazioni di beneficenza raccolte che andranno a favore di Elia & Friend ovvero a servizio dei bambini affetti da malattie genetiche rare incurabili. Torna il 20 e il 21 di maggio il 39esimo campionato italiano rapide di scacchi per ciechi e ipovedenti che si terrà all'Hotel Imperial Sport di Pesaro. Per il secondo anno consecutivo dunque la città ospiterà scacchisti da tutta Italia e si farà promotrice della inclusività e della promozione del gioco degli scacchi fra ciechi e ipovedenti. Ieri invece a Roma si è classificato al terzo posto il cortometraggio pesarese Il Segreto della Energia che ha partecipato all'edizione di corti di lunga vita in occasione del concorso nazionale di cortometraggi promosso dall'associazione 50 e più di Confcommercio. Il corto pesarese che si è aggiudicato il prestigioso podio è stato diretto da Marcello Mamini di 50 e più che ha potuto godere anche dell'ausilio di noi di Rossini TV che abbiamo emesso in campo le nostre competenze di riprese video per la registrazione del cortometraggio. Domani, giovedì 18 maggio alle ore 21.40 Rossini TV trasmetterà uno speciale dedicato all'ottava edizione di Urbino in Acquerello che ha colorato d'arte la città dei Torricini come potete vedere in questa anticipazione del servizio realizzato da Nicoletta Tagliabracci. Amiche e amici di Rossini TV ben ritrovati a Urbino la perla del rinascimento Cuore del Ducato quest'anno dedica Urbino in Acquerello ai 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro con una mostra una di quelle mostre di cui ogni tanto si sente il bisogno un dono culturale all'umanità bellissimo titolo perché i giovani che sono qui da tutto il mondo da tutte le scuole da tante provenienze diverse si sono dati appuntamento per riunirsi disegnare, dipingere e colorare di nuovo la città di Urbino andiamo a conoscere un po' i suoi protagonisti sono arrivati tanti artisti da tutto il mondo per l'ottavo edizione del Festival Urbino in Acquerello il titolo quest'anno il dono culturale all'umanità in onore al Duca Federico Montefeltro è l'obiettivo che la città di Urbino diventa un punto di scambio culturale e artistico abbiamo tanti paesi quest'anno abbiamo i ragazzi che sono arrivati anche dall'Università di Giorgia e abbiamo i bambini qui delle scuole le scuole Villa del Popo e Infanzia e le scuole, l'istituto comprensivo Volponi abbiamo il liceo artistico di Urbino abbiamo il liceo scientifico delle scienze umane laureana abbiamo anche il liceo artistico Giovanni XXIII di Milano che sono presenti con noi con 17 studenti e abbiamo tanti artisti da tutto il mondo abbiamo tre bellissime sede delle mostre quest'anno anche quattro abbiamo mostra internazionale all'interno della data Orto dall'Abbondanza dove ci sono le opere di internazionale e nazionale abbiamo al collegio Raffaello c'è una sala allestita proprio delle scuole e poi all'interno della nostra manifestazione ci sono tre esposizioni una per il maestro Marcello Lani alle sale castellari del Palazzo Ducale e abbiamo l'oratorio San Giovanni per il maestro Pedro Cano un maestro spagnolo di fama internazionale e abbiamo all'interno dell'oratorio San Giuseppe una mostra del maestro Angelo Gorlini che ha una tecnica anche diversa della Corello quindi diciamo che il festival ha preso tutta la città di Urbino ringraziando molto il sindaco e l'amministrazione comunale che appoggia molto questa iniziativa La nostra associazione è nata nel 2016 quindi abbiamo e siamo nell'ottava edizione lo scopo principale è quello di unire o di mettere a confronto artisti di carattere internazionale quindi mondiale tra loro tanti artisti per coinvolgerli a tanti fini allo scopo sociale allo scopo della solidarietà della pace dell'unione dei popoli fra i popoli quindi di conseguenza è una formula che secondo il mio avviso nessuno avrebbe potuto anche il sottoscritto potuto pensare che questa associazione potesse avere un effetto così tanto partecipato ecco Da Urbino passiamo a Cagli dove le nostre telecamere si accenderanno il prossimo weekend per la sempre affascinante festa della Pipa Cagli è sempre la capitale della Pipa dal 19 al 21 maggio all'ombra del torrione di Francesco Di Giorgio Martini maestri pipai, maestri artigiani, appassionati, collezionisti e cultori del fumolento si ritroveranno nella ventitresima edizione della festa della Pipa che si presenta in versione rinnovata attraverso l'organizzazione del Pipa Club Italia in programma, espositori, conferenze e mostre legate ad una professione dell'artigianato d'arte tra le più antiche e raffinate al mondo si comincia il 19 maggio con una giornata dedicata agli specialisti del settore che sfocerà nella suggestiva affumicena sabato 20 maggio verranno aperti gli stand degli espositori punto di forza della manifestazione che proseguirà anche la domenica, giorno della gara andrà infatti in scena la prima prova del 52esimo campionato italiano della Pipa organizzato con il Fano Pipa Club un evento per appassionati e collezionisti ma anche per un suggestivo weekend tra storia, arte e natura nell'affascinante Cagli si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo cosa propone la nostra prima serata in questo mercoledì 17 maggio subito dopo il DG per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 alle 20.10 andrà in onda il nostro speciale dedicato alla 44esima mostra del libro per ragazzi a Vallefoglia che lo ricordiamo durerà fino alle 14 di maggio a seguire alle 21.20 come ogni mercoledì è la serata dedicata ad amministrando il format condotto dal nostro Antonio Astuti che ci porta alla conoscenza dell'attività dei politici del territorio dalle comuni alla provincia fino alla regione Marche in questo caso avremo una bella chiacchierata con Giuseppe Paolini presidente della provincia di Peso Urbino nonché sindaco di Isola del Piano come detto questa sera alle 21.20 si conclude qui invece questa edizione delle telegiornale Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito